Facciamo gli auguri a questo straordinario compleanno. Per il Piemonte l'Erbaluce è un territorio, non è soltanto un vino o un vitigno, ma è un territorio straordinario che un po' rappresenta la parte del Piemonte che ha ancora un grande potenziale. Ma la cosa più bella è che vi auguro 50 anni di crescita continua, così come è successo in questi anni. Quindi grazie ai patriarchi e forza ai giovani che prendono questo testimone.